Sono stati i cani, disciplinati e festosi, i veri protagonisti del workshop nazionale sui cani d'assistenza allo scenario italiano che si è svolto nell'auditorium del comune di Scandici. Proprio a Scandici assiede la scuola cani guida che insieme alla regione toscana e al comune ha organizzato la giornata, pensata per condividere esperienze e idee con esperti e rappresentanti ministeriali e dettare le linee guida di un settore che necessita di essere normato e uniformato meglio a livello nazionale. La Toscana ha l'unica scuola pubblica per l'addestramento di cani guida per persone non vedenti ma anche di cani di assistenza per le persone con paraplegia o tetraplegia. Quindi la Toscana è sicuramente un luogo unico che forma questi animali e li fa diventare praticamente un compagno di viaggio e un compagno di vita per le persone che hanno una qualche disabilità. Le linee guida definite da un recente accordo tra governo e regioni spiegano che i cani d'assistenza sono tutti quelli che assistono non solo i non vedenti o i povedenti ma tutte le persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali. A queste persone la Toscana ogni anno consegna 25 cani. Ogni anno è una grande festa quella della consegna dei cani alle persone disabili e la scuola riscuote davvero una grande attenzione e un grande successo. L'Unione Italiana Cechi ritiene questo un punto assoluto di eccellenza. Bisogna ricordare che certamente anche per le persone con disabilità ma anche e soprattutto per le persone non vedenti il cane guida è un vero e proprio aiuto e un amico costante che sostiene la persona non vedente e l'aiuta a vivere la quotidianità. Grazie a tutti.